Per Mario è finita. Uomini e donne, l'ennesima sfogo costa caro al cavaliere, stavolta interviene Maria A uomini e donne scoppia il caso Mario Cusitore, nessuno crede alle parole del cavaliere, solo Ida Platano sembra pendere dalle sue labbra Intanto il pubblico è sicuro, Maria De Filippi sarebbe pronta a muoversi. Nei giorni scorsi era arrivata la dichiarazione d'amore di Mario Non puoi credere ad uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase ad effetto. Ida ti prego, non sa cosa inventarsi, aveva detto Tina Alessandro Rosi. Rivelava che mentre Mario dichiarava amore alla tronista in studi succedevano altre cose. Lui è talmente innamorato che qualche settimana fa è uscito con tante ragazze e le ha contattate su Instagram Tornando all'intervento di Marita, tutto è successo dopo che Mario, scocciato dal fatto che Ida fosse uscita con Pierpaolo, aveva abbandonato lo studio Uomini e donne, Maria De Filippi riprende Mario Cusitore La conduttrice aveva preso la parola sottolineando come Ida non avesse fatto nulla di sbagliato Ida non ha fatto niente. Lei esce con Pierpaolo e lui se ne va? È strano, non hanno mica 20 anni. Ma lei che deve fare? I commenti sono stati immediati, Maria finalmente interviene, si vede che anche lei non ne può più di Mario e compagnia bella Dopo questa penso che per Mario sia finita, tutti hanno capito che soggetto è, si legge ancora su Instagram Intanto l'universo di uomini e donne è in subluio Nelle ore scorse sono arrivate nuove indiscrezioni su Roberta di Padua e vicinanza Secondo Veronica Ursida quella tra loro, non è amore ma un semplice flirt televisivo Insomma, il loro destino sarebbe segnato Nonostante le rassicurazioni sono in tanti a non credere fino in fondo alla coppia uscita da uomini e donne Tra chi accusa vicinanza di essere ancora innamorato di Ida e chi Roberta di guardare altro oltre l'amore La coppia, per ora, sembra reggere abbastanza bene agli urti nonostante il giallo delle parole di vicinanza all'indirizzo della famiglia